La partita è comunque difficile, anche se il risultato rispecchia tutt'altro. Ho sempre un derby, i derby sono sempre difficili e non si guarda mai la classifica. L'anno scorso con Collina abbiamo fatto un punto in due partite e è una prova. Oggi è andata bene, ho vincito benissimo il primo tempo e poi abbiamo amministrato ben in segale. Ma gli obiettivi non li abbiamo prefissati. Ogni partita cerchiamo di vincere e cerchiamo di fare il meglio possibile. Poi i risultati spero arriveranno. È una squadra competitiva quest'anno, abbiamo cambiato tanto, abbiamo messo innesti forti. Cerchiamo di arrivare più in alto possibile, però dare un obiettivo è difficile. Soprattutto quest'anno con questo equilibrio, con questo campionato di Spannerego. Sono qua da quattro anni, mi trovo bene, mi trovo benissimo. Se non starei qua tutto questo tempo. C'è un sintetico che è fantastico, l'impianto sportivo è uno dei migliori che abbiamo qua in Ticino. Si può giocare a qualsiasi tempo, quindi diciamo che è l'ambiente ideale per giocare a livello materiale a calcio. Grazie.